Stiamo seguendo i risultati delle elezioni regionali, abbiamo con noi Pietro Grignani, il direttore del centro di produzione RAI di Torino. A Grignani chiediamo che rapporto ha la RAI, soprattutto la RAI del Piemonte, con la politica, con la classe politica che si sta costruendo in questi momenti. Domanda diretta, mi piace rispondere in modo altrettanto diretto. La prima cosa che vorrei chiarire quando si parla di rapporti RAI con la politica è quella di distinguere con chiarezza quello che viene chiamato inciucio da quello che io considero un rapporto assolutamente sano con la politica. Che cosa intendo? Prima di tutto il centro di produzione di Torino è una fabbrica, è un luogo dove si producono informazioni, trasmissioni, dove si produce cultura. Non dimentichiamo l'orchestra sinfonica nazionale della RAI, tanto per dirne una, ma direi che siccome il centro di produzione di Torino facciamo anche l'intera produzione di RAI ragazzi, i due canali RAI YoYo e RAI Gulp, abbiamo molte attività che sono squisitamente legate all'identità di servizio pubblico della RAI. E allora quando si dice rapporti con la politica vuol dire che come ogni azienda che ha un suo valore sia per i posti di lavoro sia per il tipo di prodotto che realizza, è chiaro che ci deve essere un'attenzione da parte della politica rispetto a quella che io adesso con un termine un po' forzato dico salvaguardia, ma forse è più appropriato definire possibilità di sviluppo di un'azienda che sul territorio, oltre a quello che si realizza internamente, determina un indotto in termini di posti di lavoro di visibilità del territorio, che tra l'altro non dimentichiamo vede l'asset turistico come uno degli asset di grande sviluppo su cui c'è stato un grande investimento da parte delle amministrazioni comunali e regionali, tra l'altro mi viene da dire anche con un certo successo, quindi diventa un asset nel senso di un interlocutore che come le altre aziende importanti del territorio deve avere una comunicazione con la politica e in particolare come RAI e quindi come azienda di servizio pubblico deve riuscire a intercettare quelle che sono anche le evoluzioni del territorio, le possibilità. Faccio un esempio concreto. Molte delle cose che sono nate al centro di produzione di Torino, ma vorrei dire molte delle cose che sono nate a Torino e in questo territorio, in Piemonte, poi hanno avuto il loro sviluppo e oggi costituiscono asset industriali importanti, diciamo, in altre zone d'Italia se non all'estero. Di qui una mia considerazione, questo è un territorio che è in grado anche di costruire nuove idee, nuove asset senza stare a rimpiangere sempre quello che fu, che forse è una malattia che invece un po' noi abbiamo, almeno in alcune circostanze. Parliamo di cartoon, parliamo di quello che è il documentario, parliamo di quello che è per esempio il mercato della pubblicità, della costruzione di prodotti pubblicitari, cioè il mercato audiovisivo del multimediale, del multipiattaforma. Allora, noi sappiamo che questo è un territorio che continua a essere protagonista all'interno di quelle che sono gli scenari del mondo cosiddetto digitale. Non uso più il termine nuovi media perché francamente dire ancora nuovi media nel 2014 mi sembra, come dire, un po' fuori luogo. Del mondo multipiattaforma, del mondo che sviluppa su piattaforme interattive nuove tipologie di prodotto, eccetera, ecco, come fa Rai a non essere un interlocutore della politica, ma vorrei dire del mondo produttivo e delle altre istituzioni che sul territorio, con un sistema o aggiungerei una politica di rete, può avere come centro di produzione Rai e come Rai quindi una valorizzazione delle proprie competenze, ma vorrei anche dire come capacità di essere volano di crescita di altri settori produttivi che sono sul territorio. Ecco, in questo senso il rapporto con la politica un po' c'è, un po' forse va addirittura alimentato. Un rapporto sano, così come, devo dire, almeno nella mia esperienza da quando sono qui a Torino, fino a questo momento non ho avuto evidenza di altro genere di realtà. La Rai a Torino ha il centro ricerche, il CRIT. Il centro ricerche è un diamante, è veramente una delle realtà di ricerca che realizza e è conosciuto a livello internazionale come eccellenza assoluta. Molte degli ambienti di ricerca si muovono da una parte in rapporto all'azienda che dà vita e alimenta la ricerca, dall'altra parte lo fanno anche in modo puro, cioè realizzano anche attività che sono oltre quello che è il mero utilizzo dell'azienda, che ha il CRIT, faccio un esempio, ha realizzato un microfono digitale straordinario, concepito sull'idea di come funziona l'occhio della mosca, che è una cosa non so quanto interessante, ma all'OS si capisce che attraverso due microfoni oggi sia in grado di registrare individuando la collocazione dei suoni di un intero palcoscenico. Questo è un tipo di invenzione, per esempio, che avrà, io credo e mi auguro, ne sono piuttosto convinto, un mercato internazionale. Nasce con la Rai ma poi potrà avere sviluppi molto più ampi di quello che è anche l'utilizzo in ambito aziendale. Tanto è vero che i teatri che ad oggi abbiamo utilizzato come luoghi di sperimentazione, al 100% lo hanno adottato. Una cosa interessante di questo territorio è che non si sa, cioè noi dobbiamo imparare anche a raccontarci, dobbiamo anche imparare a valorizzare quello che sta succedendo e chi è successo, perché da questo punto di vista, faccio una critica forse anche a noi come abitanti di questo territorio, dovremmo imparare di più a raccontarci e a lasciar conoscere quelle che sono le nostre eccellenze. Quindi se parliamo di dialogo e di rapporto con la politica e con tutte le istituzioni e gli enti che possono valorizzare la produttività e l'eccellenza che ci sono in Piemonte, beh allora c'è una base e credo che possa essere migliorata e possa essere implementata. Parliamo anche di un problema che è sentito da molti degli abitanti del Piemonte. In alcune zone della nostra regione, soprattutto nelle zone più lontane da Torino, ci sono delle difficoltà a captare il segnale della RAI, di RAI 3. Perché questo problema continua a esserci? Come si può dire, sono contento che lei mi abbia posto questa domanda, perché, chiariamolo, il problema del segnale della RAI che c'è e che penalizza innanzitutto i cittadini, ma insieme ai cittadini penalizza la RAI, non dipende da RAIWay, che è, come sapete, la società che si occupa del segnale, o quantomeno non dipende direttamente da RAIWay. La gestione dei segnali nel nostro Paese è articolata attraverso una serie di direttive del Ministero competente. Con quello che è stato il passaggio al digitale, data anche l'orografia del nostro territorio, e dato la crescita di molte nuove televisioni, e quindi la nascita di molte nuove antenne, richiede una armonizzazione delle esigenze di editori privati, piccoli, medi o meno piccoli, e di quello che è il segnale della RAI. Non può essere RAI ad andare a togliere un'antenna che è stata messa in un luogo inappropriato, devono essere le istituzioni preposte. Parliamo di dialogo con la politica? Ecco, questo è un classico territorio su cui, siccome parliamo di un ente ministeriale che deve intervenire rispetto alla tutela di quello che è il segnale del servizio pubblico, cioè quello della RAI, allora è il classico territorio su cui bisogna insieme trovare le forme opportune, perché poi, come dire, ci sono una serie di motivazioni dietro al fatto che la politica di emissione dei segnali e di distribuzione dei segnali non è stata, secondo me, così ben pianificata, e vanno trovate le soluzioni. Voglio dire anche che ogni trasformazione comporta inevitabilmente dei periodi di disagio. Mi verrebbe da aggiungere che il periodo di disagio a questo punto è stato sufficiente e che prossimamente, mi auguro, arrivi a trovare le sue soluzioni. La buona notizia è che nel frattempo sta partendo proprio sul nord Italia, da est verso ovest, tutta una serie di innovazioni tecnologiche che partiranno con la radio in particolare, ma che poi a seguire dovranno interessare anche le nuove tipologie di segnale televisivo. Ma siccome è una cosa che vedo più in là, credo che nel frattempo costruire i meccanismi di ridistribuzione dei segnali sul territorio e anche di opportuna vicinanza, che non sia competitiva, che non sia di copertura, perché la RAI non è che si può muovere in modo difforme da quelle che sono le regole istituzionali, questo, insomma, lo diamo per scontato, quindi non è che possiamo andare a giocare a far vedere i muscoli o chi ha l'antenna più grande. Si tratta di avere una pianificazione gestita dagli organi competenti, che sono quelli statali, che riescano a garantire il diritto di tutti di ricevere il segnale della RAI e il diritto della RAI di poter far ricevere il proprio segnale a tutti. Grazie direttore.